Il cuore giallorosso, non possiamo farvela sentire perché non abbiamo con la regia mobile la Mercedes-Benz, però queste musiche le metteremo magari sotto a qualche filmato in modo che possano arricchire e colorire i nostri servizi. Poi ne parleremo con Antonello. Ecco la Roma come altre otto squadre, che poi la Coppa Italia già ci ha indicato i nomi. Quel vagone del metro, al di là del mare, Seattle, Forza Roma, quello che non vedi mio padre e non voglio, questa è la tua cassetta. Quali sono la canzone più da tifoso e la canzone invece un pochino più poetica pur restando in un ambiente giallorosso? Allora, le due canzoni sulla Roma sono Cuore giallorosso e Forza Roma, sono le due canzoni iniziali dei due lati diciamo. Forza Roma è una canzone più da stadio diciamo, è una samba, una canzone che si canta, si può cantare andando allo stadio per incitare la squadra. Infatti l'ho scritta con l'animo di un diciottenne. Sì, è mio padre invece, è un titolo che mi colpisce. Sì, mio padre è una canzone lenta che parla di un problema dei separati, perciò è una canzone che non c'entra con la Roma, però ho voluto arricchire la cassetta anche con altre canzoni. L'importante è che voi magari compri la cassetta perché ci trova il tifo, ma poi trova anche qualche altra cosa. Certo, infatti ho fatto una trasmissione, una emittente radiofonica ieri e sono piaciute tantissimo anche le altre canzoni. Ti chiedo scusa, tu sei autore delle parole e della musica? Sì, sì. Perfetto, passiamo un attimino alla nostra inviata della Lazio, speciale Lazio, speciale Signori, perché lei è innamorata di Signori, lui non lo sa, però insomma, Signori può cominciare a... È amato da qualcuno. Sì, sì, lo sa, è bello sentirsi amati. Sì, allora, l'altra volta l'ho fatto con Patrizia, questo gioco lo faccio con te. A voi del calcio interessa moltissimo, sono sulle 19. Sì, è meno di quelle di mercato, però è una cassetta originale a tutti gli effetti, perciò... C'è una dedica, mi sembra di aver capito. Sì, è una dedica al presidente Dino Viola, compianto presidente che ha fatto davvero tanto per... È passato adesso con il signor Donaflora. Sì, infatti la... Tu da quanto tempo segui Dino, perché non è una speculazione, è un fatto che nasce dal cuore questo. Diciamo, io ho scritto, sì, una canzone che ho scritto per la mia squadra, per la squadra che amo, che poi difende i colori della città, che amo, perciò... Va bene, se noi facciamo l'in bocca al lupo, io volevo vedere la mia scaletta che mi dice Lazio Cesena, la mandiamo a Antonio De Pierro e gli chiedo, tu mi hai fatto questo gradevole omaggio, ma se qualcuno lo vuole comprare questa cassetta cuore giallorosso, dove si trova? È reperibile presso alcuni dei club giallorossi, anche presso il centro coordinamento, se no presso alcuni negozi, non tutti, per esempio faccio Cinerama, Cinecittà, oppure Good Times a Largo Brancaccio... Io ti faccio un bocca al lupo per questa iniziativa, poi tornerai magari, cercheremo di farla sentire anche... Spero di portare fortuna alla Roma, specialmente oggi, anche nel proseguo del campionato. Ma oggi non ci dovrebbero essere grandi problemi, chiudiamo con... Spero di portare... Spero di portare...